L'atletico Ascoli dimentica lo scivolone di Fossombrone e torna a conquistare la vittoria battendo nel turno infrasettimanale del campionato in Roma City. Un 1-0 di rigore, firmato da Minicucci, al termine di una gara dura. L'atletico si schiera col classico 3-5-2, assenza di rilevo quella di Ciabuschi, che ha provato fino all'ultimo ad esserci, ma ha dovuto alzare la bandiera bianca. Brivido anche per Maio, che ha stretti i denti ed è riuscito a partire sin dall'inizio. Nel Roma City, assente ancora Piccioni, al ceno dell'attacco è presente Camilli, con Battistoni a supporto. Sin dalle prime battute, gara molto maschia, con un gioco spezzettato. Per vedere la prima azione, degna di nota, dobbiamo arrivare al diciottesimo, quando una bella discesa sulla destra di Mazzarani vede il pallone crossato in mezzo, con Maio, che non arriva ad un soffio all'appuntamento con il tapin vincente. Quattro minuti dopo, Minicucci serve Olivieri, che batte a Retes dall'out sinistro. Matei risponde presente e devia in angolo. Il Roma City si vede per la prima volta al ventisettesimo, quando è Gironese a provarci dal limite, col pallone che sfila però sul fondo, senza impensierire Pompei, che guarda la traiettoria. Dutti ha emozione al cinquantesimo, quando Maio calcia una posizione dal limite, ma il pallone termina lontano dai pali. La ripresa si apre sulla falsariga della prima frazione, con il Roma City che bada più a distruggere il gioco, e l'atletico che fa una fatica in mane a costruire. Al dodicesimo si vede Minicucci con un tiro cross, che chiama la parata a bassa Matei. Trascorrono 60 secondi e arriva l'episodio che risulta decisivo. Sugli sviluppi di un'azione di padrone di casa, Fradella strattò in area nonni. In proiezione offensiva, l'arbito è l'attento e indica il rigore. Sul dischetto si presenta Minicucci, che trasforma in modo impeccabile per il terzo centro stagionale. Si arriva al 27esimo, quando il Roma City si propone in attacco con Pellegrini, che dalla distanza prova a sorprendere Pompei, ma il numero uno di casa è attento e para a terra. Al 34esimo, grande occasione ospite per il pari. Bella azione di Camilli lungo l'out destro, che dopo aver superato il dislancio d'Alessandro, entra in area e crossa dall'area piccola a Bonello calcia a botta sicura, ma il numero uno di casa disinnesca da campione la minaccia. Due minuti dopo, piove sul bagnato in casa arancio-blu, con Gelonese che si becca il secondo giallo e lascia i suoi in dieci. All'ultimo dei cinque minuti di recupero, Nonni ci mette una pezza anticipando da campione Camilli, già pronta la conclusione, che probabilmente sarebbe risultata vincente. Termina 1-0, tre punti che rialzano l'Atletico dopo lo stop di Fossombrone, mentre per il Roma City continua il periodo no, con un sol punto conquistato nelle ultime tre partite.